Ciao Screen Wickers, buongiorno, buonasera, io sono Bee e questo è un nuovo video. David Tennant ha dato il volto ad alcuni dei personaggi più iconici e memorabili di tutta la cultura pop moderna. Che interpreti l'eroe o il cattivo, il pubblico può sempre contare su di lui per una performance divertente e memorabile. In occasione dell'uscita oggi su Sky della serie Litvinenko, indagine sulla morte di un dissidente, che lo vede protagonista nei panni del dissidente russo Alexander Litvinenko, Ucciso nel 2006 per ordine del suo paese, ho deciso di proporvi una top 5 che arriva da Ranker, sito internazionale di sondaggi votati dal pubblico, in cui celebriamo i ruoli migliori della carriera di Tennant, o quantomeno quelli preferiti dagli spettatori. Peter Vincent da Fright Night David Tennant interpreta il famigerato killer di vampiri Peter Vincent nel remake del 2011 di Fright Night, che è ampiamente considerato come una delle commedie horror più brillanti e fantasiose degli ultimi anni. Il personaggio di Tennant gioca un ruolo enorme nella storia e la sua interpretazione sfrenata non si dimentica facilmente. Tennant ha la possibilità di flexarci proprio tutti i suoi muscoli recitativi in questo ruolo, disegnando un personaggio completamente nuovo e originale, sia nella sua personalità che nella sua backstory. Non deve essere stato un ruolo facile da interpretare, ma Tennant rende impossibile immaginare qualcun altro che potesse incarnare meglio questo personaggio. Personalmente, quello di Peter Vincent sarà anche uno dei suoi ruoli minori, ma per me è una delle sue migliori interpretazioni di commedia. A me fa ridere tantissimo ogni volta che rivedo il film, e fosse di peso da me, l'avrei messo in testa questa top 5. Ebbene sì. Alec Hardy da Broadchurch. La performance di Tennant nei panni dell'ispettore Alec Hardy in Broadchurch è stata accolta con enorme successo dalla critica all'epoca ed è ancora considerato uno dei migliori lavori dell'attore fino ad oggi. Lo show segue Hardy e la sua collega detective Ellie Miller, interpretata da un'altra grandissima attrice Olivia Colman, mentre indagano su un raccapricciante omicidio in una tranquilla cittadina di mare. David Tennant e Olivia Colman sono ampiamente considerati come due degli attori più talentuosi e incisivi della Gran Bretagna, due eccellenze che lavorano oggi, quindi vederli lavorare insieme a questo progetto è stato un grande momento per la serialità televisiva. I due hanno un'incredibile chimica sullo schermo e danno vita ai loro personaggi in modi davvero interessanti. Killgrave da Jessica Jones La malvagia interpretazione di David Tennant nei panni di Killgrave nel Jessica Jones nato su Netflix e risuscitato su Disney+, è senza dubbio uno dei suoi migliori lavori e non solo per quanto abbia reso bene in questo ruolo, ma anche per quanto si vede il divertimento proprio che ci ha messo nella caratterizzazione del personaggio. Interpreta il personaggio con una malvagità così particolare, diciamo, che lo rende tanto divertente da guardare quanto al tempo stesso terrificante. Il suo Killgrave è diventato, pensate, così iconico che i fan sperano di rivederlo in qualche modo ora che Disney ha ripreso in mano Daredevil, ma non so, per me è alquanto improbabile che possa accadere per una serie di motivi, boh, che ne pensate? Crowley da Good Omens David Tennant e Michael Sheen hanno lavorato insieme molte volte in passato, ma il loro lavoro su Good Omens è senza dubbio la collaborazione più divertente finora. Entrambi interpretano l'uno l'antitesi dell'altro e sono in grado di divertirsi seriamente con i loro ruoli e di abbracciare l'eccentrica sceneggiatura di Neil Gaiman. Lo show segue la storia dell'angelo Aziraphale e del demone Crowley, che si uniscono in un'improbabile alleanza per prevenire il giorno del giudizio che si sta avvicinando al pianeta Terra. Troviamo elementi di fantasy, fantascienza e persino romantici in questa strana e meravigliosa avventura in cui Tennant e Sheen portano il pubblico, miravigliosamente ineffabile, come si dice nella serie. Ma in testa non poteva non esserci forse il più iconico dei suoi ruoli, e io lo so già che voi sapete che cosa sto per dire, il dottore da Doctor Who. Ci sono stati molti attori e attrici, 15 per l'esattezza, che hanno interpretato diverse incarnazioni del dottore sullo schermo dal 1963, ma David Tennant viene spesso citato come il migliore tra tutti. Al suo dottore ha dato una certa energia e un entusiasmo contagioso che rende i suoi episodi molto divertenti da guardare. E per la gioia e il giubilo dei fan più appassionati, e beh, sappiate che è stato recentemente annunciato che David Tennant tornerà nel ruolo per lo speciale per il sessantesimo, quindi anniversario, di Doctor Who. Ma non è ancora stato confermato, diciamo esattamente, in che modo. Sappiamo però che apparirà al fianco di Catherine Tate, che ha interpretato la sua companion nella quarta stagione dello show. Bene Screen Wickers, questi sono alcuni soltanto dei ruoli più iconici di David Tennant, ma adesso tocca a voi completare questa classifica, farci sapere qual è il ruolo in cui lo avete apprezzato maggiormente, che può essere uno dei sopraccettanti o anche un altro che non è rientrato in classifica. Iscrivetevi ai sociali al canale di Screen Week se ancora non l'avete fatto, e per altri contenuti di cinema e serie, beh, venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!